Premio internazionale archeologia subacquea nell'ambito della fondazione Sebastiano Tusa. Lei oggi riceve il premio alla carriera. Prima ci diceva una carriera lunga, 24 anni, nel Ministero della Cultura greca. Ecco, cosa si prova a ricevere un riconoscimento di questo tipo? Mi sento veramente onorata e troppo emozionata. Prima perché è un riconoscimento del mio lavoro, ma soprattutto è un'emozione perché è il nome di Sebastiano Tusa, che era non solo un amico, ma un archeologo subacquea, subacquea eminente. Ho sempre sua memoria e tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme per la preparazione della sovrintendezza del mare a Sicilia ha mostrato a me una grande fiducia di chiamarmi per aiutare con la legislazione e l'organizzazione della sovrintendezza del mare. E allora veramente mi sento onorata per questo premio. Grazie. Grazie.